Cari amici amanti del pugilato, è oggi scomparso all'età di 74 anni grande Muhammad Ali. Lo ricordiamo per le sue battaglie con Foreman e per la sua immensa carriera di pugile e soprattutto per le sue battaglie da uomo contro il razzismo negli anni 70 e 60 soprattutto, in un'epoca in cui il razzismo la faceva da padrone. Ha lottato con la sua malattia che durava da moltissimi anni ed è stato uno dei maggiori esponenti a livello mondiale della box, che tutti noi ricordiamo con immenso piacere e grande gioia, perché crediamo che le persone come Ali non verranno mai dimenticate. E di questo dobbiamo ringraziarlo sempre per l'esempio di vita che ha dato e per il coraggio e la forza che ha dimostrato in vita. Credo che uno così non lo scorderemo mai. Sperando che ci guardi da lassù, vi mando un abbraccio e che Dio lo abbia in gloria sempre. Ciao grande Cassius Clay, ti ricorderemo per sempre. Ciao ciao. Questo è il mio ricordo. Amici sportivi, al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.